Ciao a tutti, oggi siamo qui con David Robinson, che è il direttore delle giornate del cinema muto, nonché è uno dei massimi esperti di Charlie Chaplin al mondo. David ci vuole fare un saluto. David, cosa ci vuoi dire? Ogni anno, quando saluto il pubblico nella prima serata, dico lo stesso frasso, che è benvenuti a casa. È vero, perché siamo come una famiglia qui, e poi non è ospita. Grazie a Pornone. Ciao, siamo con Federica Dini, dello staff delle giornate del cinema muto, lei si occupa prettamente dell'organizzazione delle giornate. Federica, cosa vuol dire organizzare un evento così grande e di portata internazionale? È un lavoro che si protrae per tutto un anno e che coinvolge una cinquantina di persone, alcune per periodi più lunghi e altre soltanto presi per il periodo estrettamente precedente al festival. Vuol dire occuparsi di trasporti, di movimento film, dei problemi degli ospiti, delle autorizzazioni per protettare i film, di tutti i permessi necessari da parte del comune. È un grandissimo lavoro che a volte spaventa, però poi quando si è dentro trascina e riempie di entusiasmo. Ben trovati, anche oggi come nei giorni precedenti siamo qui con Sara Cozzarin dell'ufficio stampa delle giornate del cinema muto che ci illustra i principali film che verranno proiettati domani, venerdì 7 ottobre. Sara, cosa ci consigli per venerdì? Dunque, domani continuano le proiezioni per la serie Kertez Before Curtis in mattinata, dopodiché seguiranno per la serie del cinema italiano due film di Febo Mari, di cui ricordiamo in particolare Cenere, che è l'unico film recitato da Eleonora Duse. Altri due film italiani andranno poi in onda di sera, dopo l'attesissima proiezione di The White Shadow, il film di Grand Cats con la partecipazione di il giovane Alfred Hitchcock. Poi, appunto, in occasione della presentazione e del ritrovamento di questo film, verranno consegnati i premi Jean-Metrie al New Zealand Film Archive e al National Film Preservation Foundation. La segnalazione che mi preme fare è di andare a vedere il film Cenere, che è l'unico esempio di film in cui c'è la mitologica attrice Eleonora Duse. A presto, ciao!